Buona giornata a tutti. In questo video affronto in modo semiserio l'argomento curiosità e strafalcioni nel linguaggio medico. Premetto innanzitutto che non è mia intenzione offendere alcuno, per tale motivo se le mie parole orteranno la sensibilità di qualche collega mi scuso in anticipo. Il video è indirizzato ai miei studenti e ha lo scopo di far capire loro che la precisione terminologica in ambito sanitario è importante perché rappresenta il primo passo per la precisione professionale che costituisce un ottimo strumento per evitare l'errore medico. Cominciamo col primo strafalcione, il collare cervicale. Se digitiamo su google l'espressione collare cervicale otteniamo 115.000 risultati. Qui mostro i primi che mi sono capitati. Come potete vedere anche Wikipedia parla del famoso collarino cervicale. Collare cervicale, collare cervicale, collare cervicale, collare cervicale. Dove è dunque lo strafalcione? Lo strafalcione è nell'aggettivo cervicale e di tutta evidenza che non possono sussistere dubbi sul fatto che col termine collare si intenda un qualcosa che deve essere posizionato a livello del collo. Ora perché utilizzare l'aggettivo cervicale? Forse il medico che prescrive questo presidio teme che il paziente posizioni il tutore alla caviglia anziché al collo? L'espressione collare cervicale in pratica costituisce una ridicola tautologia della quale però pare che non si accorga nessuno visto che tutti continuano a utilizzare questa espressione. Sarebbe come dire pancera addominale per specificare che la pancera si mette alla pancia e cavaliere della caviglia per specificare che le cavigliere devono essere posizionate alla caviglia. Ma vediamo cosa dice il vocabolario italiano. Qui abbiamo il vocabolario Treccani online. Il dizionario descrive il collare come una strisce di cuoio o altro materiale che si mette intorno al collo di bestie o altro. Qui c'è una bella descrizione. Ma se osserviamo la terza accezione troviamo cerchio di ferro che si metteva al collo e alle caviglie di schiavi e galeotti. Quindi è vero che i collari si possono posizionare anche alle caviglie? Sarà per questo che i colleghi ortopedici spesso preferiscono utilizzare l'aggettivo cervicale quando prescrivono l'uso del collare? Osservo però con un po' di delusione che anche il vocabolario Treccani non è riuscito a resistere alla tentazione di citare il collare cervicale. Eccolo qua. Presidio ortopedico consistente in un collare rigido e imbottito che viene usato per immobilizzare guarda caso il collo ai pazienti traumatizzati. Evidentemente anche la Treccani teme che il paziente trovandosi con questo oggetto di forma circolare in mano possa utilizzarlo per agganciare una catena alla caviglia come gli schiavi e i galeotti invece che posizionarlo attorno al collo. Nonostante la delusione per aver preso atto che anche la Treccani è caduta nella tautologia io preferisco continuare a definire questo presidio come tutore cervicale o collare ortopedico. Veniamo ora al secondo termine controverso. In questo caso non si tratta di uno strafalcione ma di una precisazione linguistica. Si dice il palmo o la palma della mano? Spesso faccio questa domanda agli studenti in occasione delle mie lezioni. Nella quasi totalità dei casi la risposta è il palmo. Effettivamente nella maggior parte dei casi il termine utilizzato in ambito medico è il palmo della mano. Andiamo a vedere cosa ci dice il vocabolario Treccani. Palma dal latino palma. Superficie ventrale della mano detta anche palmo. Ci sono po' dei riferimenti. Manzoni, Foscolo, Boccaccio, D'Annunzio. Quindi il termine corretto è proprio palma. Però tra i sinonimi troviamo il termine palmo. Tra parentesi troviamo scritto però tosc che vuol dire voce dialettale toscana. Cerchiamo adesso il termine palmo. Eccolo qua. Vediamo sostantivo maschile dal latino palmus misura lineare. La distanza che può misurarsi con la mano tesa aperta dall'estremità del pollice a quella del mignolo. Sinonimo di spanna. Sinonimo di spanna. Quindi il palmo è una misura. Tipiche sono le espressioni restare con un palmo di naso oppure il territorio fu conquistato palmo a palmo. Parlando di guerra e di soldati. Se guardiamo però la seconda accezione troviamo nell'uso toscano lo stesso che palma. In conclusione il termine più utilizzato in ambito medico è una voce dialettale toscana ancorché accettata in italiano. Poiché io non sono toscano, naturalmente con tutto rispetto per la toscana, mi rifiuto di parlare in dialetto quando mi rivolgo a un paziente o agli studenti. Quindi continuerò a utilizzare il termine la palma della mano che mi dà più soddisfazione per la sua etimologia latina. Pensate se al posto della pianta del piede si dicesse il pianto del piede. Dopo questa battuta passiamo al terzo strafalcione metacarpo o metacarpale. L'errore nell'utilizzo di questi due termini è estremamente radicato nel linguaggio medico, forse ancor più dell'aggettivo cervicale per specificare che il collare deve essere possessionato al collo e non in altre regioni anatomiche. Vediamo innanzitutto come il vocabolario definisce il termine metacarpo. Regione della mano come intesa in anatomia topografica cioè con l'esclusione delle dita è costituito dalle ossa metacarpali o i metacarpali che sono cinque. Tali ossa sono cinque indicate progressivamente con primo secondo terzo quarto quinto metacarpale. Quindi i metacarpi o anche metatarsi sono due, il destro e il sinistro e i metacarpali che costituiscono il metacarpo sono cinque a destra e cinque a sinistra. Altrettanto dicasi per metatarsi e per metatarsali. Sembra tutto assolutamente ovvio. Ma allora come mai in moltissimi testi medici anche autorevoli con riferimento alle fratture delle ossa metacarpali o metatarsali troviamo spesso scritto frattura del primo, del quinto, metacarpo o metatarso. Come mai così frequentemente si confonde la regione anatomica con il segmento scheletrico? Ho fatto una ricerca su Google digitando fratture metacarpi e ottenuto migliaia di risultati. Come potete vedere frattura dei metacarpi, il primo metacarpo, il primo metacarpo, il quinto metacarpo, le fratture dei metacarpi, il quinto metacarpo, le fratture dei metacarpi, dappertutto le fratture delle metacarpi. Anche qui i metacarpi spesso tendono a fratturarsi a seguito di traumi diretti eccetera eccetera. Ma l'improprietà di linguaggio è presente anche su testi importanti. Qui vediamo un esempio. Fratture dei metacarpi, primo metacarpo, terzo metacarpo, le lesioni dei metacarpi eccetera. Ho qui dove ho fatto una ricerca su Google libri e questi sono diversi testi importanti, quindi testi medici specialistici dove il termine frattura del metacarpo, le fratture della base del metacarpo, la frattura da puggi, le fratture dei corpi del metacarpo, il termine metacarpo, il quinto metacarpo, anche su testi importanti, l'improprietà di linguaggio è riportata. Francamente sono un po' sorpreso del fatto che questa improprietà di linguaggio sia così radicata da essere sfuggita anche ai revisori di diversi editori. Comunque io non mi rassegno. Nonostante quanto riportato in importanti testi continuerò a parlare di metacarpo destro e sinistro e di frattura del quinto metacarpale o metatarsale. Per il momento vi saluto e ci sentiamo alla prossima per ulteriori strafalcioni.